Siete disturbati da strani rumori nella notte? Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta? Voi e i vostri familiari hanno sentito mai storie di spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate, prendete il telefono e chiamate i professionisti, gli acchiappa fantasmi. Così parte l'introduzione del videogioco Ghostbusters The Video Game del 2009, in richiamo al spot pubblicitario compreso nel film Ghostbusters del 1984. Ghostbusters The Video Game del 2009 è Ghostbusters 3 in pratica, perché è ambientato nel 1991 e riprende molte scene, o quantomeno ne rende omaggio, del primo film del 1984. La trama fondamentalmente è questa. È stata allestita a New York una mostra dello scienziato, trattino architetto, Ivo Shandor. Lo scienziato che fu il progettista del palazzo in cui abitava Dana Barrett, palazzo il cui reale scopo era quello di essere un'enorme antenna in magazzina energia per attirare fantasmi e aprire un portale che avrebbe fatto arrivare Gozer il Gozeriano sul nostro piano terreno. Gozer il Gozeriano era la famosa divinità sumera, main villain del primo film. Qui, nel terzo, diciamo, capitolo del videogioco, il main villain è Ivo Shandor stesso, che vuole sempre unire il mondo paranormale con il mondo terreno, ma per prendere lui stesso il potere assoluto. Il film, scusate, perché mi sembra davvero un terzo film, il videogioco appunto ripercorre alcuni grandi eventi del primo film, come la cattura di Slimer nell'hotel, ma anche come la cattura, diciamo, la sconfitta dell'ominio di Marshmello, che è il primo grosso, grosso fantasmone che affrontano. Ma poi gli eventi continuano e sono sempre più fantascientifici, sono sempre più paranormali. Eventi che non avrebbero potuto certo girare nell'84 o nell'89. Quindi vediamo finalmente i Ghostbusters in un'avventura molto simile alle avventure più fantasiose che avremmo visto nei cartoni. Non vi voglio svelare di più della trama, non vi voglio fare spoiler, vi consiglio semplicemente, se siete fan di Ghostbusters, di acquistare questo gioco. Vi ricordo che è vero, è uscita una versione remasters per PS4 e Xbox One, ma se non l'avete la PS4 o l'Xbox One, nulla vi vieta di andare, per esempio, sullo store della PS3, sullo store dell'Xbox 360, come feci io all'epoca, e di acquistarlo virtualmente. Anzi, se lo acquistate nella versione vecchia, vi trovate anche la lingua italiana, cosa che invece non c'è nella versione remasters. La cosa bella di questo videogioco è che, seppur, bella o brutta a seconda dei punti di vista, che seppur ci sono tutti i protagonisti, quindi c'è Igon, c'è Winston, c'è Peter e c'è Ray, chi gioca siete voi, ovvero voi non potete prendere il controllo di Peter, Winston, Ray o Igon, ma prendete il controllo di The Rookie, la recluta, che è il, diciamo, il quinto acchiappa fantasmi assunto in prova, probabilmente da un'agenzia interinale, per aiutare i Ghostbusters a testare la nuova attrezzatura. E infatti in questo videogioco si capisce come funziona uno zaino protonico, si capiscono anche le varianti che Ray e Igon hanno apportato allo zaino protonico, e si vedono tanti nuovi gadget, nonché tanti nuovi tipi di melma, che entrano a far parte dell'immaginario del franchise Ghostbusters. Quindi voi sarete The Rookie, spero che vi piaccia il personaggio, perché nei fumetti della EDW The Rookie farà una comparsa, non sarà uno dei protagonisti, ma si vedrà come la recluta, dopo aver appunto passato il suo periodo di prova nei Ghostbusters, aprirà una filiale a Chicago. Non mi voglio dilungare troppo sul videogioco, perché ne parleremo magari nel gameplay. Il gameplay lo vedrete qui, lo vedrete anche live sull'altra piattaforma viola, e spero che vi piaccia, perché a me è piaciuto, è piaciuto tanto. Se siete fan dei Ghostbusters, vi piacerà di sicuro. Recuperatelo in qualunque modo possibile. Io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche, di mettere un bel mi piace al video, di condividerlo con tutte le persone che amano i Ghostbusters, e rimanete sintonizzati per i prossimi video sull'argomento. Vi ricordo sempre che in descrizione io vi metto dei link che possono contribuire alla sovvenzione del canale, sono degli acquisti consigliati di Amazon, ma vi metto anche Together Price, che è praticamente un portafoglio virtuale che vi permette di conoscere gente come voi che vuole risparmiare sul costo mensile di Netflix, di Spotify o di piattaforme streaming simili, e appunto di pagarle un pochino meno. Io vi saluto con l'inchino e con l'imbuto. Arrivederci!